C'è molto dei ragazzi che hanno giocato da squadra a vera, con l'obiettivo di arrivare in finale, quelli che sono partiti, quelli che sono entrati e quindi sono molto contento. Quelli che sono entrati hanno fatto molto bene, quelli che hanno giocato all'inizio hanno fatto altrettanto bene e quando giochi a calcio e non hai la palla bisogna che tu difenda in un certo modo. Noi con il Bologna abbiamo fatto meno bene su quella cosa lì. Quanto è cresciuto Rabiot e quanto gli manca ancora per fare più ulteriori step e per diventare un fattore? Intanto stasera ha fatto gol, poi purtroppo li hanno annullati per un pizzico di fuorigioco, però ha fatto una buona partita come lui, come Zacche, che comunque ha intercettato dei buoni palloni, Danilo, ma tutti. Quindi credo che stasera vanno fatti i complimenti a tutti i ragazzi perché comunque arrivare in finale e la Juventus per l'undicesimo anno si gioca un titolo, anche quest'anno credo che sia un buon risultato. Ma è divertente, poi sarà una bella serata di calcio, una città meravigliosa come Roma. Non so se arriviamo da favoriti, noi andiamo laggiù, giochiamo, cerchiamo di vincere la partita, poi vediamo se siamo favoriti o no.